Questa è Taranto, questa è anche Taranto. L'area camper in via Mascherpa, completamente abbandonata e devastata. Si parla di area custodita, un cancello aperto, noi siamo entrati, ci siamo avventurati in una realtà davvero apocalittica. Non c'è un custode, non c'è nessuno, ci sono solo resti, ci sono solo macerie. Scopriamo insieme, vediamo un po' questo universo davvero scandaloso. E come vedete c'è di tutto di più, resti di vetri, vetrate, specchie, specchi e quant'altro, peraltro pericolosissimi. Vedete su pellettili, vedete mobili completamente sfasciati, distrutti. Sinceramente non abbiamo il coraggio di avventurarci all'interno perché non sappiamo cosa potremmo trovare, in chi e in cosa potremmo imbatterci, però il quadro penso che sia molto ma molto più eloquente di ogni mio commento. Questo sia nella parte sottostante, sia nella parte sovrastante. Come vedete poi a corredo abbiamo qualche camper in fondo, leggo se non vedo male, un camper abbandonato con la scritta custode, eifu, siccome immobile. Come vedete c'è da riflettere molto sul modo in cui l'amministrazione comunale gestisce la cosa pubblica? Perché pensare ad una struttura che doveva essere un'attrattiva fondamentale per il turista, per il camperista e vederla così ridotta ad uno scempio è davvero penoso. Guardate c'è di tutto, doveva essere anche qui un piccolo punto di ristoro ma nulla di più. E se vedete qui c'è anche una insegna, questa opera è stata realizzata con il Fondo Europeo di Sviluppo regionale FESR anno 2000. Questo è il danaro pubblico e vedete il danaro pubblico come è stato sprecato, è stato fatto scempio di danaro pubblico, è il caso di dire e io pago, e io pago. E questa era la sala macchine, la sala pompe di risalita e quant'altro. Tutto allagato, guardate che scempio, tutto allagato. Ma signori, signori amministratori, così dobbiamo fare il turismo a Taranto? Vergognatevi, vergognatevi. E da bravi e responsabili cittadini gli amici hanno chiuso il cancello onde evitare che malintenzionati possano entrare e fare ulteriori scempi. Meditate cittadini, meditate.